Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 22 agosto. Vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata e ovviamente non possono che essere i soliti temi che riguardano l'autostrada e la tragedia del Parco Nazionale del Pollino, o del Pollino, Dio santo come l'avrò pronunciato, come l'accento dove l'ho messo. Partiamo dalle autostrade. Sulle autostrade quali sono le novità di giornata? Presto detto, sulle autostrade c'è l'ipotesi che possa intervenire la Cassa Depositi e Prestiti, cioè si tratta di quelle nazionalizzazioni all'italiana in cui non se le compra lo Stato, ma se le compra un veicolo, una società controllata dallo Stato che utilizza il risparmio dei cittadini italiani, cioè in parte quello postale, in più fa debito su questo risparmio per avere, come possiamo dire, una massa di manovra gigantesca. Contenti voi, contenti tutti, io so che sono una minoranza ormai ristretta tra coloro che pensano che sia una grande stupidaggine quella di affidare allo Stato la gestione delle autostrade, ma lasciamo perdere. Sulla gestione della Cassa Depositi e Prestiti però pare, secondo Repubblica, che ci sia stato uno scontro fortissimo tra Tria, il Ministro dell'Economia e il resto del Governo, tanto che Repubblica non vede l'ora di titolare Caos nel Governo, Tria boccia l'ipotesi Cassa Depositi e Prestiti, a Hug Giorgio. Nel frattempo si fanno avanti altre ipotesi come quelle dell'ANAS, l'altra azienda che per anni ha gestito le autostrade italiane e abbiamo visto con quale successo gestisce le strade italiane oggi e immagino con quali investimenti potrà farlo. Anche se l'ANAS, come specifica oggi non mi ricordo quale giornale, potrebbe continuare l'attività delle autostrade e quindi esigere i pedaggi e fare quegli investimenti che evidentemente si accusa le autostradi non aver fatto. Vedremo cosa succede. Nel frattempo ieri il Consiglio di Amministrazione di Atlante e l'autostrade ha deciso di dare questi 500 milioni che io se fossi in Salvini, Di Maio, Conte, comunque me li porterei a casa e poi andrei a vedere che cosa farne. Anche se nei primi giorni si diceva che le autostrade avrebbero dato 500 milioni più il rifacimento del ponte, oggi mi sembrano soltanto 500 i milioni. Sulla questione autostrade da segnalare l'avvenire, perché il giornale cattolico in genere è così affascinato dall'economia di Stato, ma sulla questione dell'autostrade Becchetti, un economista, scrive in prima pagina in cui dice che l'idea della nazionalizzazione non mi sembra fantastica. La cosa che invece mi stupisce di più di oggi è l'intervista di Cantone a Repubblica, perché Cantone a Repubblica dice che lo Stato non ha sorvegliato, ci sono delle omissioni da parte dello Stato, dice un sacco di roba Cantone. Allora io mi chiedo, Cantone però è la manna di noi giornalisti, a me piacerebbe avere domani la possibilità di intervistare il magistrato che mi dice qualsiasi cosa, l'imprenditore che mi dice qualsiasi cosa, in genere c'è un po', come si suol dire, i giornalisti sono abituati all'effetto Conte, cioè intervistare una persona importante che non dice nulla, invece Cantone dice sempre troppo, cioè in realtà Cantone non è il Presidente del Consiglio, non è un ipognonista, non è Nordio che ha smesso di fare il magistrato e fa l'opinionista sul messaggero, è un cacchio di magistrato che sta in un'agenzia molto importante che è quella contro la corruzione, in base a quale cavolo di principio, questo si può mettere a dare notizie, informazioni sullo scibile umano, soprattutto su dossier che lo riguardano in prima persona e soprattutto con quella tipica ipocrisia gli fanno una domanda, ma lei che cosa ne pensa riguardo al fatto che si vuole revocare la concessione e lui dice io non parlo di queste cose, ah non parli di queste cose ma sapete come risponde? Però certo si deve dare un segnale importante ai cittadini e quali sarebbe, porca miseria, la grande enorme gigantesca ipocrisia per cui tutti dicono tutto. Sulla questione dei ponti vi segnano una cosa che c'è soltanto il tempo di Gianmarco Chiocci che fa una fantastica polemica contro la federazione italiana a gioco calcio con la FIGC perché si peritano di rispondere che un ultra romanista non poteva rispondere sul giornale di ieri a delle ipotesi di non fare avere delle ultradonne nelle prime file della curva, insomma lasciamo perdere questo. Oggi il tempo di Chiocci c'è una cosa molto divertente ma anche molto pericolosa e cioè che sarebbe stata da quel genio dell'amministrazione romana della Raggi, aveva già ridotto una corsia, aveva reso una strettoia la strada che portava da Fiumicino alla città, è la città più importante turistica italiana e Fiumicino dei Benetton è uno dei più grandi snodi per il turismo italiano perché abbiamo puntato su quello e non su Milano, vi ricorderete abbiamo tolto a Malpensa e a Milano tutto quanto il cosiddetto de-hubbing dell'Italia, bene facciamo atterrare gli aerei tutti a Fiumicino e la strada che collega la città all'aeroporto è stata ristretta a una corsia con file enormi a rientro in città per quel genio della Raggi. Sapete cosa hanno fatto oggi? Perché ovviamente la fobia è diventata altissima e probabilmente uno dei ponti sulla Magliana è anch'esso pericolante e allora che non sono a Capabio, non vi preoccupate, anche perché mi cacciano a calci del sedere a Capacchio, non mi chiede qualcuno. Cosa succede? Hanno interrotto uno dei ponti probabilmente di Fiumicino, il che vorrà dire che a settembre l'interruzione di un ponte sulla Magliana che porta da Fiumicino al centro della città vuol dire un altro Morandi, perché vuol dire bloccare completamente il traffico dei turismi da Fiumicino a Roma. Ma in quel caso siccome i turisti hanno un'alternativa a differenza dei porti, anzi anche i porti ce l'hanno perché invece di andare a Genova vanno a Rotterdam, i turisti quando scoprono che ci vogliono due ore per arrivare a Roma, come a Cairo o come forse a Bombay, allora sapete che fanno? Dicono ma insomma ragazzi invece di andare a Roma ce ne andiamo a Parigi, ce ne andiamo a Londra, dove peraltro non è che ci si mette molto di meno per arrivare al centro della città. Questa storia è oggi sul tempo. Altra questione che riguarda tutte le concessioni è invece quella di toglierle, di revisionarle, ipotesi Giorgetti, oggi se ne occupa soprattutto il Sole 24 Ore che ci dice che sono 35 mila le concessioni che sarebbero in discussione per un valore di 1,4 miliardi all'anno che lo Stato introiterebbe per queste concessioni. Poi però si va a vedere quali sono queste concessioni, questi cattivi che hanno gestito le concessioni e lì un po' di imbarazzo per la Lega c'è perché 850 milioni di questo miliardo e 4 di concessioni a chi vanno? A piccoli padroncini, quelli delle spiagge e gli ambulanti che sono difesi, quelli delle spiagge con una certa ragione dalla Lega e gli ambulanti con una certa ragione dal Movimento 5 Stelle. Allora siamo tutti fenomeni, i Benetton sono cattivi, sicuramente hanno sbagliato, per carità non siamo qua a difenderli, così come sono tutti quanti cattivi gli altri concessionari, quelli che utilizzano le spiagge da 40 anni, magari non hanno fatto gli investimenti o hanno, lucrano su quella rendita di posizione, cioè gestire una spiaggia bellissima, cioè se vogliamo fare i populisti facciamolo fino in fondo. Ugo Arrigo oggi sul fatto, ci spiega come in realtà lo Stato potrebbe rinunciare, uno degli economisti esperti che denunciò la cattiva gestione della concessione alle autostrade, dice che le 20 annualità che dovrebbe prendersi le autostrade sono una cavolata perché per un danno di questo tipo si può invocare una clausola di giusta causa e però si dovrebbero prendere subito i 500 milioni che ha promesso Autostrade. Un'altra delle questioni di oggi è il selfie di Toninelli che con un cappello della guardia costiera si fa vedere con gli occhiali da sole e la fidanzata al mare. Il selfie è patetico come tutti i selfie che facciamo noi, come quello che ho fatto io su Instagram, con quello che facciamo tutti noi presi da una specie di narcisismo vuoiarista, ma oggi a difendere il ministro dei trasporti da una serie di insulti inerrabili, cioè alla fine chi alimenta la bestia poi difficilmente riesce a domarla, chi lo difende è secondo me molto coraggiosamente Farina sul Libero che dice, mi sembra ipocrita chiedere le dimissioni, le fanno quelli di Forza Italia, al ministro dei trasporti perché è in vacanza, perché è normale che un ministro sia in vacanza, alla fine siamo ad agosto, 4-5 giorni di vacanza li vogliamo dare a un ministro così come era ridicolo chiedere e scandalizzarsi per i selfie fatto in chiesa perché subito da Salvini nel caso dei funerali. Posizione di Farina che non viene condivisa dal moralista per eccezione italiano che è sempre quello che ci deve fare la morale, Gramellini che dice, caro ministro c'è 5 giorni di gloria tua malgrado per la caduta del ponte per la nave di Ciotti che gira per tutto il Mediterraneo, cerca di non andare in vacanza, se ce lo dice Gramellini allora siamo tutti quanti qui ad ascoltarlo, insomma tra i due sapete bene chi preferisco. Sulla nave di Ciotti che ho appena annunciato è la nave che ha 177 migranti, eritrei, soccorsi in acque maltesi, è un gran casino perché Salvini le ha fermati tecnicamente al porto di Catania ma non vuole che scendano in Italia, per il semplice motivo che vuole che si rispettino alcuni accordi anche se informali fatti dagli ultimi incontri ministeriali e quindi vuole che gli altri paesi europei prendano una parte di questi migranti. L'unico paese europeo che voi tanto odiate, che il populismo tanto odia eccetera, sapete chi è che ha preso in questo caso come in quello di pochi giorni fa di Pozzallo i migranti che sono trovati sulle navi? Macron, il nostro odiato Macron è l'unico che è stato disponibile e nel caso di Pozzallo si è portato 50 dei migranti che sono stati recuperati a Pozzallo. Questa è la storia della Diciotti, la trovate da tante giornali. Fantastica oggi, lo sapete che è una mia passione, oltre all'annunziata purtroppo non scrive molto in questo periodo, fantastica l'intervista della Buongiorno, Ministro della Pubblica Amministrazione. Voi dovete aiutarmi, aiutatemi, vi prego, mandatemi sms, mandatemi mail, trovatemi un cazzo di Ministro della Pubblica Amministrazione, uno, uno, trovate un Ministro della Pubblica Amministrazione che come prima uscita, seconda uscita, terza uscita non abbia detto assumiamo più dipendenti pubblici. Anche la Buongiorno dice il disegno di legge si chiamerà concretezza, concretezza, dunque puntare su una cosa concreta, assumere entro il 2019 450.000 persone. Allora io vi chiedo e mi chiedo, a parte il fatto che tutti i Ministri della Pubblica Amministrazione sono dei fenomeni, arrivano là e subito vogliono assumere, ma secondo voi c'è un'azienda al mondo, non un'azienda in Italia, un'azienda al mondo, Facebook, Google, Musk, Babbo Natale, Batman, che è in grado di assumere in un anno, secondo le sue spalle, riesce a reggere 450.000 nuovi dipendenti? No, soltanto lo Stato italiano, perché non paga la Buongiorno, la Buongiorno anzi più numeri fa e più la gente è contenta, più siamo brava Buongiorno, ma che brava, ma che buona idea, i vigili del fuoco, i militari, tanto lo paghiamo noi, noi paghiamo la Buongiorno e paghiamo quelli che le vuole assumere, tanto che cacchio ce ne frega a noi, perché verranno assunte solo persone indispensabili, ci metto la mano sul fuoco, 450.000 persone. Ultima cosa fantastica di giornata è Asia Argento, una imbarazzante vicenda, perché adesso che cosa si scopre? Io su questo sono totalmente d'accordo con Libero e con la verità, ma soprattutto con Libero, in cui il mio amico, come si chiama, Cruciani dice una cosa straordinaria, cara Asia, torna a Cuccia, che è meglio, a parte il titolo, il tema fondamentale del feroce Cruciani, hai utilizzato il tuo marito, il tuo fidanzato suicida, una settimana dopo che vede la foto di Asia con un giornalista francese mano nella mano, bene, dopo che si è suicidato il suo fidanzato, diceva sì, insomma era lui che mi aveva consigliato, lui che mi ha dato i soldi, dice questa si è fatta dare 380.000 per chiudere con un ragazzino con cui avrebbe avuto un rapporto sessuale orale, bene, avrebbe chiuso, e perché il suo fidanzato glielo avrebbe detto ma chiudila perché se no succede un casino, per vivere tranquilla, eccetera, cioè quella che poi va a fare me too, sentitemi bene, quella che poi va a fare la donna rigorosa dicendo che è senza macchia e combatte con tutti contro le ipocrisie, per evitare un problema si fa consigliare dal fidanzato di chiuderla con uno che gli chiede dei soldi di risargimento per una presunta violenza sessuale, ma quella doveva farne un casino, doveva dire come ti permetti non utilizzare questo strumento, doveva avere lo stesso orgoglio avuto con Weistain contro questo ragazzino, no, paga, tra l'altro con i soldi di quello che oggi non può dire come sono andate le cose perché è morto, scarica sul fidanzato suicida, dice oggi qualcuno, la responsabilità della sua violenza sessuale, per la quale oggi Battista sul Corriere ci dice, beh ma su via, questo ragazzo aveva 17 anni, beh insomma come dice Battista, su via questa ragazza aveva 17 anni, io potrei dire su via, Asia quando andava nelle stanze di Weinstein, andava nel suo camerino del produttore, nella sua sala privata, da sola, su via, che vuoi che sia, era adulta come qualcuno ha detto, sulle molestie sessuali che avrebbe ricevuto da Weinstein, alcuni di voi mi hanno detto stai attento che Asia non è stata condannata, io vi dico, si Asia non è stata condannata ed è stato condannato Weinstein? No cari miei, è stato condannato Brizzi? No, anzi è stato archiviato le denunce di molestia che due attricette gli avevano rivolto, una per prescrizione, e va bene, non prescrizione perché erano passati i termini per la denuncia, l'altra perché erano tutte cagate, perché gli sms dimostravano che lei li aveva richiamato, insomma, in questo scandalo, diciamo presunto scandalo, l'unico scandalo è che per troppo tempo abbiamo dato ascolto a Asia Argento, paladina del Me Too, e questo secondo me basta per dare il senso della cagata che è quel movimento. Vi do un saluto, vi do appuntamento come sempre sul mio sito nicolaporro.it per tutti gli aggiornamenti di giornata, e se vi piace questo video condividetelo. Ciao!